A Portopotenza un 29enne abruzzese è stato sorpreso nelle campagne a consumare cocaina. A bordo della sua vettura i militari hanno rinvenuto due involucri contenenti cocaina e marijuana. Il giovane è stato segnalato come assuntore alla prefettura. A Loro Piceno i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente per detenzione illegale di munizionamento e porto abusivo di arma bianca due fratelli macedoni di 24 e 25 anni, i vi residenti, poiché nella propria abitazione venivano rinvenuti un grammo di hashish e munizionamento per pistola 38 special per carabina da tiro, polvere da sparo ed un manganello sfollagente in metallo all'interno dell'autovettura del 25enne. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.